Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Lele King TV quest'oggi si ritorna con le Torus Elite carte che ci hanno dato qualche gioia ultimamente perché abbiamo trovato, non so se avete visto, insomma anche una di uno non di un grandissimo campione, però intanto una di uno l'abbiamo trovata e più tutte le altre numerate e via dicendo mi trovavo in Eticola, proprio adesso in questi giorni di settembre ormai sapete, ormai è sempre più difficile trovarle queste Torus aveva ancora un box di queste Torus Elite ho detto perché non provare, perché non provare mi sono fatto dare due bustine di quelle più spesse quelle che in teoria potrebbero contenere le carte quelle con la possibilità di trovare i pezzi di maglia però, insomma, vediamo un po' che succede ci proviamo, ma non è detto che esca fuori perché spesso questo spessore viene dato proprio da uno spessore di cartone messo apposta per non so, non far prendere le carte più buone quindi non è detto che ci sia niente di buono però la speranza è l'ultima morire troviamo a scoppiarci questi ultimi colpi di queste Torus Elite non si sa mai, esce fuori qualcosa di buono intanto troviamo una base di Brozovic troviamo Szczesny della Juventus troviamo Barrov, eccolo qua del Bologna e di lui abbiamo trovato la 1 di 1 Pessina del Monza troviamo una Star Status di Satriano del Empoli poi troviamo Miretti troviamo lo spessore quindi niente carta speciale poi troviamo Gonzales, Zola e niente troviamo soltanto la Star Status in questo pack andiamo avanti e apriamoci quest'altro pacchetto con la speranza che ci sia qualcosa ma non lo so nel primo non è andato bene Tamez i Bagnets che non c'è più con la Roma come sapete Kostic Scotten Star Status un'altra questa è di Simeone quindi sicuramente qui ci sarà uno spessore non ci sarà il pezzo di maglia sono quasi sicuro cancellieri e andiamo a vedere lo spessore eccolo qui bello bianco come ci aspettavamo diciamo così Zanoli del Samp Okereke Blin e Provetel ok ragazzi questo pacchetto questi due pacchetti non sono andati particolarmente bene abbiamo trovato due Star Status di Satriano e di Simeone quindi niente di particolare quindi niente di buono abbiamo trovato neanche le numerate tanto per dire quindi non è che ci ha detto bene anzi ci ha detto male e niente vi saluto ci abbiamo provato ciao a tutti